A tu per tu dà il benvenuto per la prima volta in un'intervista in studio a Davide Santon, ciao Davide Buongiorno a tutti C'è un po' di emozioni, è la stagione dei debutti questa, ti devi preparare perché hai fatto il debutto in prima squadra il debutto in nazionale, il debutto nei studi televisivi, è proprio la stagione dei debutti Sì, è una stagione per me importantissima che mi sta regalando tante emozioni prima il debutto in prima squadra e poi è arrivato anche il debutto in under 21, un'emozione bellissima Senti, chi ti vede da fuori pensa che tu sei un ragazzo freddo, che non si scompone in realtà io penso che come tutti gli esseri umani avrai un tumulto di emozioni dentro da raccontare per quelle che sono state per esempio quell'Inter Roma Io ho avuto tante emozioni però sono riuscito a superarle con molta freddezza forse anche come ho sempre detto dall'aiuto dei miei compagni però sono stato molto bravo a superarle perché come ho detto giocare con la tensione non è molto facile invece se giochi tra le cose che quando sei teso fai fatica a fare Tu riesci a fare quei numeri che facevi con gli allievi? Quando prendevi palla sulla fascia sinistra ricordiamo che giocavi un pochettino più avanti quindi avevi meno campo da fare però li scartavi tutti, arrivavi sul fondo, se decidevi di far gol tiravi quasi dalla linea di fondo e segnavi se no appoggiavi in mezzo per un compagno e segnavano tutti in quella squadra Come hai detto ero più avanti come posizione però essendo terzino, essendo un po' più indietro riesco comunque a fare le azioni che facevo adesso mi sto abituando diciamo e partita dopo partita cerco di migliorarmi sia in fase offensiva che in fase difensiva Sai che dicono che il calcio va alla rovescia un tempo un destro giocava a destra, un sinistro a sinistra adesso tutto al contrario è più facile, è più difficile, com'è per un destro giocare a sinistra? Tu hai giocato a destra e a sinistra, ricordiamo anche questo che magari non tutti sanno Sì sì ho giocato sia a destra che a sinistra diciamo che un destro giocando a destra diciamo che va più sul fondo diciamo per poi metterla col destro invece stando a sinistra tende più a rientrare e calciare di destra in porta vabbè che io non l'ho quasi mai fatto adesso sto cercando di farlo infatti in nazionale non so se hai visto due bei tiri l'ho provato due volte a tirare in porta non è andata bene però devo incominciarlo a fare più spesso anche perché il tiro ce l'hai? Sì me lo dicono sempre infatti anche i miei compagni in allenamento quando vedono che rientro senti tutti tira! e io non tiro mai però devo abituarmi a tirare in porta Senti ci sono i papà e la mamma naturali che hanno un ruolo importantissimo e poi non le mamme ma i papà del lavoro cioè gli allenatori da chi partiamo? da papà e la mamma naturali? quanto sono felici in questo quanto possono essere orgogliosi ha fatto tanti sacrifici continuano a farli perché li vediamo arrivare agli orari più improbabili all'aeroporto a prenderti quando si torna di notte no stanno facendo dei sacrifici incredibili perché da quando sono arrivato all'Inter loro ogni domenica salivano si facevano tre ore e mezza di strada per venirmi a vedere e per tornare alle 9-10 di sera e poi il mattino dopo andare a lavorare quindi penso che abbiamo fatto dei sacrifici molto grandi e nello stesso tempo anche io ho fatto dei sacrifici perché andare via di casa a 14 anni e stare da solo penso che per arrivare a un qualcosa che vuoi veramente dei sacrifici bisogna farli quando è che hai capito che poteva essere una carriera importante? quando sei stato inserito nel gruppo di quelli che doveva lavorare tu così giovane quest'estate con quelli di prima squadra? sì, quella è stata una soddisfazione però lì non è che ho pensato sta diventando una carriera importante ho pensato Davide da qua incomincia veramente cioè sin dal primo giorno che sono arrivato all'Inter ho sempre pensato questo però dico si fa veramente serie adesso quando ho fatto il mio esordio in Inter Roma ho detto da qua Davide è una cosa seria e da lì diciamo che sono partito senti ma quando senti, leggi il mister fare questi complimenti dice è un campionissimo no no non è un campionissimo è un super campionissimo è eccezionale no 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 non è eccezionale è super eccezionale ci sono solo superlativi per te lì cosa succede? un po' d'orgoglio un po' di... tu sei un ragazzo fondamentalmente riservato timido, molto tranquillo come li raccogli questi messaggi che sono importantissimi? il mister come dice lui fantastico a me fanno piacere i complimenti che mi fa il mister anche se non so per esempio Santone è un fenomeno sono complimenti che sono anche un po' esagerati però è ovvio a me fa un piacere sentire sempre i complimenti del mister e niente lo ringrazio molto anche per la fiducia che mi sta dando ma quando eri bambino c'era qualcuno che diceva Santone è un fenomeno sì anche quando ho fatto le giovanili all'Inter o prima di venire all'Inter ho sempre detto che io avevo qualcosa in più degli altri però io sinceramente mi faceva un piacere come ho detto però non mi sono mai montato la testa nel senso io non ho mai fatto questo senti in quella posizione tu hai dovuto imparare a fare una cosa che non avevi mai fatto difendere sì che per un ragazzo che ha sempre giocato attaccante perché questo poi era il ruolo centrocampista offensivo comunque zona alta è la parte più difficile dei primi quattro mesi in cui lavoravi tutti i giorni ricevevi magari i complimenti le indicazioni da parte di Giuseppe Murigno ma il giorno del debutto era ancora lontano sì era ancora lontano cioè diciamo che è stata dura perché non avendo mai fatto il terzino in fase difensiva diciamo che i movimenti del centrocampista esterno e quello di difesa sono cioè sono praticamente uguali perché quando la parte di là devi stringere però c'è una cosa che se sbagli in difesa è in porta se invece sbagli in centrocampo c'è qualcuno che aiuta dietro quindi devi sempre essere concentrato al cento per cento e diciamo che aver imparato a fare per esempio le diagonali e tutte queste cose e l'aiuto di Mr. Mourinho mi è servito molto perché mi ha fatto capire molte cose con i disegni no con i disegni con la posizione in campo gli diceva stai più in qua stai più in là e io pian piano ho capito anche perché non ho prima dell'esordio il terzino sinistro l'avevo fatto due volte quindi sapevo i movimenti però non sapevo tante cose ancora adesso le so però mi sono abituato un pochettino anche perché ricordiamo che l'anno scorso tu subentrasti per una squalifica a Filippini nel ruolo terzino destro con la primavera e poi anche lì sei entrato e non sei più uscito no infatti sono segnali questi poi perché Filippini è stato espulso mi ricordo nella partita contro l'Albino Leffe io sono entrato da terzino e niente quella partita lì è andata molto bene e a fine partita i miei compagni mi dissero che il mister in panchina ha detto però Santon terzino non è niente male e poi da lì ho sempre giocato ho fatto le finali con la primavera e poi è arrivato il ritiro con la prima squadra sai che c'è stato un altro giocatore un grande campione campione del mondo che ha iniziato un po' come te terzino poteva giocare a destra a sinistra falcata lunga come la tua poi è nato a centrocampo non parlo di Facchetti parlo di Tardelli sì Tardelli anche lui è stato un grande giocatore e mi ricorderò sempre quel gol ai mondiali quel gol anche perché con l'Under 21 nella parte finale della partita si è stato messo nella zona di centrocampo il mister me l'aveva già accennato che voleva provarmi più alto a centrocampo mi ha detto sì sì mister l'ho fatto l'anno scorso con la primavera però non cioè non l'ho fatto sempre ho fatto due o tre volte però so come comportarmi infatti poi è andata bene anche lì a centrocampo sono riuscito a fare le mie attività ci sono dati 5-10 minuti che ho fatto fatica a trovare la posizione poi dopo l'ho trovata e sono incominciato ad andare e qua si è fatto un gol quindi sembra che hai imparato veloce anche in quel caso i calciatori di oggi devono essere così sapere come Zanetti giocare ovunque è utile è un vantaggio è un stanco sì è importante saper giocare in tanti ruoli e io praticamente li ho fatti li ho fatti quasi tutti perché l'anno scorso ho fatto alla destra alla sinistra attaccante terzino destro quest'anno terzino sinistro mi manca solo il difensore centrale centrocampista centrale lì ne abbiamo tanti siamo tranquilli si va a Udine e si ricomincia dopo questo periodo di nazionali di grandi emozioni con una grande volata a questo punto l'udinese avversario difficile l'udinese che quando si giocò inter-udinese all'andata era una squadra che era lì che lottava per lo scudetto con l'inter poi dopo quella sconfitta iniziò un periodo difficile però adesso si è ritrovata adesso si è ritrovata sappiamo che tutte le squadre sono avversarie difficili e l'udinese è appunto una di queste e niente andremo là sempre con la voglia di vincere e speriamo che vada bene per noi per continuare la nostra volata per la vittoria dello scudetto dunque non sappiamo se giocherai a destra o a sinistra fondamentalmente quindi o c'è Pepe oppure ci sarà Floro Flores comunque non c'è Sanchez non c'è Di Natale che sono assenze importanti sicuramente per l'udinese qualcuno potrebbe dire beh insomma dopo Cristiano Ronaldo tutto il resto è poca cosa invece tu mi dicevi no no qua non devi distrarti con nessuno mai con nessuno devo sempre stare attento a qualsiasi giocatore che mi capita davanti che sia Cristiano Ronaldo oppure Abate o qualsiasi altro giocatore devi essere sempre concentrato al centro per cento appena ti distrai un po' è finita uno a zero per gli altri senti ma la tua gioia maggiore in questo momento che stavi vivendo questa nuova avventura impensabile possiamo dirlo soltanto 12 mesi fa qual è? ma sicuramente la gioia più grande è avere esordito con la prima squadra dell'Inter ma la cosa più importante secondo me come ho sempre detto e sono felice di questo che i miei compagni mi vogliono bene e che mi trattano come se fossi il suo figlio capito perché giocatori come Samuel o qualcuno che hanno dei figli una famiglia così cioè che mi trattano come un figlio a me fa piacere capito e mi vogliono bene tutti e di questo sono molto contento sentite quando sei all'Inter ogni anno hai vinto uno scudetto no non tutti gli anni l'anno scorso l'abbè un campionato un anno hai vinto un campionato perché non c'era lo scudetto ho vinto giovanissimi nazionali allievi nazionali con mister Bernaziani appunto e l'anno scorso ci siamo andati vicini contro la Sampdoria nella finale primavera Inter Sampdoria appunto niente è andata male abbiamo perso 3 a 2 alla fine con un tiro praticamente da 40 metri però hai vinto l'altro quindi nell'anno insomma comunque è arrivato un titolo è arrivato un titolo insomma 70.000 tanto no? sì no no è andato bene lo stesso guardiamo con serenità i prossimi mesi ascolta un'ultima cosa poi ti lasciamo e veniamo proprio a questa partita e a questa volata Udinese poi c'è il Palermo poi c'è questa partita che a Torino dicono noi ci giochiamo tutto in quella partita se loro non giocano le due che arrivano prima noi siamo contenti perché mi sembra che forse l'attenzione mai con me da questo momento in avanti debba essere proprio gara dopo gara sì sì l'attenzione è ovvio sempre maggiore in gara dopo gara all'avvicinarsi della fine del campionato è ovvio se arriva al match di Torino che è un match importantissimo e noi è ovvio speriamo di vincere sappiamo che è dura però daremo il massimo per vincere come abbiamo fatto sempre mi sono guardato un po' le tue esultanze quando segnavi ancora bisogna riprendere perché ricordiamo che eri uno dei capocanonieri degli amici quindi l'abitudine al gol hai già pensato se mai capitare di fare gol in prima squadra che prima o poi capiterà come l'esultanza abbiamo già preparato qualcosa in prima squadra vado dal mister Mourinho vai dal mister vado dal mister dirma vai a che mi fermo va bene a tu per tu Davide Santone ciao